Se seguite il padel giocato conoscerete tutti Lucas Campagnolo, uno dei top di World Padel Tour e Premier Padel brasiliano che ha fatto coppia con Javi Garrido in una parte della scorsa stagione, facendo notizia per una separazione piuttosto burrascosa, ma soprattutto fa notizia per il suo modo un po' istrionico di esultare ai punti vinti. Per questo oggi diamo il benvenuto a Dropshot sul canale per l'annata 2023. Dopo aver trattato Nox, Adidas, Wilson e Babola, t'areva al momento anche per il brand spagnolo che, se mi seguite su Instagram, avete già notato che potrebbe avere un po' di spazio nel prossimo futuro. Seguite il profilo che c'è qui sotto per essere sempre aggiornati su tutto quello che succede nel mondo del padel, comprese le recensioni short, un unboxing e tanto altro. Detto questo, alziamo ufficialmente il separo su questo video dicendo che, se fate un bel subscribe al canale e attivate la campanella, sarete sempre aggiornati sulle nuove recensioni e video chat di analisi dei tornei. Miglior modo per sostenere il canale e ovviamente il mio lavoro, se vi piace chiaramente. Oggi parliamo della Dropshot Explorer Pro 5.0, la pala, come detto, di Lucas Campagnolo che sto utilizzando in questa stagione. Come sempre andiamo a vedere una piccola introduzione tecnica, le impressioni in campo, pro e contro, oltre ovviamente a capire se questa è la racchetta che stavate sognando. La Dropshot Explorer Pro 5.0 è una pala a forma a lacrima con un bilanciamento medio-alto. Ha un peso che può variare dai 360 ai 380 grammi, con la mia che pesa 371, come sempre, senza l'accetto. Il piatto è in carbonio 12K, con superficie ruvida e levigatura delle facce con tecnologia 3D, che aiuta con gli effetti. Il nucleo è composto di una gomma Eva Pro High Density, mentre tutta la struttura è in carbonio, posizionandosi nella fascia alta delle pale di questo brand. Come per tante pale ormai, l'organizzazione dei buchi Smart Hold System aiuta a ripartire la forza all'impatto con l'ampallina e, oltre al power beam hard, riduce le vibrazioni ed evita l'effetto antitorsione. Il Cork Cushion Grip e Silicon Channel, infine, compongono l'impugnatura, che è avvolta con una lamina di silicone per aiutare il comfort. Per quanto riguarda lo stile, Dropshot si caratterizza sempre per una grafica unica, iridescente, che cambia colore in base alla luce che riceve, e questo è un particolare che rende inconfondibile lo stile grafico del brand. La qualità costruttiva di Dropshot e la solidità che trasmette sono sempre di alto livello e sul canale potete trovare altre pale Dropshot recensite della linea 2022 che vi lascio nelle schede a conferma di questa sensazione continuativa nel tempo. Dopo una overview delle caratteristiche tecniche, ora passiamo alle sensazioni in campo che sono un pochino ad approfondire. Questa Dropshot Explorer Pro 5.0 è una racchetta che non ha caratteri particolarmente spiccati nel senso della potenza o del controllo. Da fondo campo bisogna un pochino conoscerla e conoscersi. Partiamo dal dire che il punto dolce non è generosissimo, non è chiaramente una technical viper Lebron per esempio, però per essere una pala lacrima il punto dolce non è così pronunciato e questo potrebbe non aiutarvi nei colpi non impattati perfettamente. Questa pala vi impone una cosa a mio modo di vedere fondamentale, ovvero la necessità di giocare la pallina spingendo il colpo. Se aspetterete e non andrete convinti sui colpi, vi resteranno lì. Ho riscontrato una grande differenza tra il colpo deciso e il colpo un po' molle. Infatti quando non sarete sintonizzati non aspettate di grandi aiuti. L'uscita di palla è buona e se colpite nel punto dolce lob e colpi di precisione arriveranno con buoni risultati. A rete devo dire non mi ha rapito perché la resa a bassa intensità non è entusiasmante quando riceverete palle morbide o sotto il livello della rete. Nei colpi un po' più complicati serve molta misura tra l'eventualità di provare a spingere un pochino e la necessità di controllare. La potenza è discreta ma non aspettatevi un cannone. Potete andare dentro al contodo sulle palle giuste, tenendo conto però che serve misura e movimento perché la possibilità che la pallina scappi c'è. L'uscita di palla è il compartimento di gioco o più efficiente della Dropshot Explorer Pro 5.0? Perché se la pallina è colpita nel punto dolce la resa è molto interessante e la pallina viaggerà con ottimi ottimi risultati. Il sistema di assorbimento delle vibrazioni è molto buono. Non ho mai sofferto e sentito il braccio affaticato, pur giocando con questa racchetta magari anche partite ravvicinate. La tecnologia è sicuramente promossa. I 240 euro di listino sono un buonissimo prezzo per una pala posizionata sul livello alto del brand. Se pensiamo che si può trovare street price ad ancora meno è addirittura un'ottima cosa ancora di più. Se volete risparmiare la trovate su Sportnet al link in descrizione con il 10% di sconto se inserite al checkout il codice SIMOPT, S-I-M-O, Palermo, Torino. Il punto dolce di questa racchetta non è entusiasmante. Per essere di forma lacrima e non spiccatamente offensiva si poteva fare meglio. Non è minuscolo, di certo, ma altrettanto sicuramente non è neanche generoso. Questa pala ha rete sulle palle non fortissime, quindi non blocchie o non si esprime al meglio. Dovrete lavorare abbastanza bene di tecnica per avere dei colpi profondi e che mettano in difficoltà gli avversari. Con questa pala, come detto prima, bisogna colpire con convinzione. Altrimenti la pallina rischia di finirvi nei piedi o a pochi centimetri da voi se sarete molli o poco convinti. Questa Dropshot Explorer Pro 5.0 è una pala che ha come unico punto un po' debole, diciamo, il punto dolce. Per il resto può essere considerata una pala a lacrima, magari con un bilanciamento un pochino più in alto rispetto alla normale, ma che nonostante il peso non ti fa praticamente soffrire. E questo è un plus deciso. Credo che possa essere ugualmente utilizzabile sia dai giocatori di destra che di sinistra che cercano abbastanza polivalenza, senza esageratamente spinta né verso la potenza né verso il controllo. La qualità costruttiva di Dropshot è sempre una certezza. Quindi avrete in mano una pala molto solida e, come riportato da Dropshot stesso, qualcosa posizionato nella gamma alta del brand. Quindi sicuramente considerato il prezzo una buonissima cosa. Un'altra cosa positiva è che per averla non dovrete dare fondo, come detto, al vostro portafogli, perché di listino si assesta intorno ai 240€ e street price si può fare ancora meglio. Quindi nel panorama delle nuove pale 2023 sicuramente è un buon prezzo. Avevamo già recensito la 3.0. Avete provato la 4? Siete pronti ad acquistare la 5? Fatemelo sapere nei commenti. E se il video vi è piaciuto, mettete un like che sono i migliori modi per creare interazioni e far girare il video sulla piattaforma. Io, ringraziandovi come sempre per aver visto il video fino in fondo, vi do appuntamento come sempre a una prossima uscita e, se avete domande, fatemela vedere con un portress. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti.